ai giovani comici campani soprattutto se sono campani consiglio sempre di guardare troisi proprio pochissimo proprio poco e niente vederne poco capire perché per rispetto di Massimo Troisi va visto ma è troppo potente quella luce cioè nel senso se da campano guardi troisi dentro di te diciamo nasce l'idea che non c'è altro modo di far ridere nessuno farà più ridere di così quindi io devo avvicinarmi a quella cosa lì e quello è pericoloso cioè troisi nella storia diciamo del suo grande successo ha privato della propria personalità da tanti comici sì sì perché e penso che per ogni regione ci stanno simili nella musica ci stanno a volte la luce di alcuni performer o comici o musicisti o attori o quello che è così potente che brucia delle persone